Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Allora, ieri sera ci siamo incontrati, abbiamo fatto un paio di chiacchiere sia in live sia nel post partita per la qualificazione della Juventus al Mondiale per Club 2025. Non me l'aspettavo, devo dirvi la verità, non me l'aspettavo, a maggior ragione perché all'interno dei video penso di aver descritto anche in maniera molto positiva la prestazione del Napoli contro un Barcellona che ha fatto semplicemente meglio, di un Napoli che da campione d'Italia in carica è stato un pochino maltrattato, voglio essere cauto e usare un eufemismo, ma un pochettino maltrattato. Dallo stesso presidente del Napoli che con delle scelte molto discutibili, anche qui voglio andare molto cauto con i termini, è riuscito a distruggere un giocattolino meraviglioso che aveva creato con Luciano Spalletti. Scelte tanto discutibili che hanno portato a tre allenatori diversi in panchina per i campioni d'Italia, che sono stati tagliati fuori dalla corsa a Scudetto un bel po' di tempo fa, non ci sono entrati da campioni d'Italia in carica, sono stati eliminati dalla Coppa Italia, sono stati eliminati agli ottavi di Champions e ora rischiano anche di rimanere fuori dall'Europa in generale, magari si qualificheranno per l'Europa League, non lo so, però queste cose qui sono tutte robe che devono aggiustarsi e lavarsi in casa da soli. Io ieri sera non ho risultato per l'eliminazione del Napoli, a me che il Napoli vada avanti in Champions League mi frega meno di zero, io credo che il Napoli abbia dei problemi grossi e molto più grossi della Juve in questo momento che non si sta divertendo, ma a me del Napoli che vada avanti in Champions me ne frega meno di zero, a me interessava semplicemente che l'Evento si potesse qualificare per il mondiale pre-club, per un discorso di competizione che apprezzo vedere, perché è una cosa nuova, è una cosa inedita e quindi mi fa piacere essere dentro a questa competizione, è per un discorso finanziario, economico, perché non prendiamoci in giro, i soldi fanno la differenza e basti vedere anche un po' quello che è successo ieri al Milan, no? E' quello che succederà magari all'Inter che ha dei problemi finanziari, a quello che è successo l'anno scorso alla Juve, ragazzi i soldi sono la base del calcio e in questo momento in Italia a livello finanziario le squadre non stanno passando dai bei momenti, quindi il fatto che la Juventus l'anno scorso abbia pagato, che ora vedremo cosa succederà al Milan, che l'Inter potrebbe essere coinvolta a breve per via di debiti che conosciamo tutti, io non posso essere triste se la Juventus si qualifica per il mondiale, ma a me del Napoli dentro fuori me ne frega meno di zero. Rispondo anche a quelli che mi dicono non ve la siete meritati e bla 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 quelle robe lì, ragazzi se c'è un punteggio e in questo punteggio la Juventus era comunque più avanti del Napoli, anche senza aver disputato la Champions quest'anno, allora mi viene a dire che i meriti ci sono, non è che la Juve quei punti gli hanno regalati, significa che in generale la Juventus negli anni precedenti aveva fatto meglio, a tal punto da qualificarsi comunque nonostante l'assenza della Champions quest'anno, conquistata sul campo l'anno scorso e rimossa per via di quelle che sono state le pene della giustizia sportiva, anche qui la Juventus ha patteggiato, non è che non si può fare, si può fare, l'ha fatto e le sono comunque stati tolti dei punti che hanno tolto la partecipazione alla Champions, le hanno tolto la possibilità potenzialmente di guadagnare tanti bei soldini, quindi non è che la Juve non se l'è meritato o gliel'hanno regalata, anzi la Juventus ha rischiato di rimanere fuori da questa competizione dopo aver pagato per delle cose che non hanno funzionato, per delle cose che, vabbè, non voglio neanche riaprire la discussione perché secondo me l'anno scorso i due filoni sono stati puniti un po' al contrario, devo dirvi la verità, e tra l'altro lo sappiamo anche il Napoli è indagato per via di quello che è successo nell'affare Ozyman, quindi ragazzi a me pare di vedere che un po' tutto il mondo sia paese all'interno della Serie A o comunque del calcio in generale, perché abbiamo tante squadre che anno dopo anno magari hanno delle magagne dal punto di vista del fair play, dal punto di vista dei bilanci o robe del genere, quindi far passare il messaggio che ieri sera io stessi festeggiando l'eliminazione del Napoli e non l'accesso alla Juventus a mondiale per il club è un messaggio sbagliato, e sarebbe bastato ascoltare semplicemente il video dove spiegavo, spiegavo, che tra l'altro il Napoli secondo me ha fatto una bella partita tra andata e ritorno e il povero Calzona si è ritrovato a doversi le carri ferite, però sembra anche un po' folle dover spiegare queste cose, ma facciamolo, facciamolo, tutto fa brodo ed è giusto essere quanto più trasparenti possibili. Qualcuno mi ha detto anche, cosa ci va a fare la Juve al mondiale? Che scarsa! Ragazzi, la Juventus non è forte in questo momento al mondiale, si gioca estate 2025, quindi è comunque qualcosa di positivo per la Juve a qualificarsi al mondiale, io sono molto contento di questa roba qui. Poi, mi fa ridere, stamattina legge la prima pagina del Corriere dello Sport, del buon Zazzaroni, e scrive, al mondiale ci va Allegri. Ecco, ieri sera già avevo tirato fuori un po' questa discussione che voglio fare insieme a voi, e cioè, Allegri al mondiale non ci va, non ufficiosamente, ad oggi ufficialmente, e non perché Allegri verrà esonerato dopo il Genoa, Allegri verrà esonerato a fine stagione o altre robe. Il contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus scade al 30 giugno 2025. Il mondiale per club si gioca nel luglio 2025, quindi Allegri o rinnova o il mondiale non lo gioca. Quindi no, Allegri non ci va al mondiale, o rinnova o non lo gioca. Rinnova, boh, non lo so, lo esonerano o lo confermano, boh, non lo so, fatto sta che dovesse rimanere, cosa improbabilissima, in panchina, senza rinnovare, con solo l'anno di contratto, Allegri al mondiale non ci andrà. Poi magari lo rinnoveranno? Magari lo esonereranno? Boh, non lo so, queste sono cose oltre. Però la Juventus si presenterebbe al mondiale in questo momento senza la certezza della guida tecnica. E quindi può essere uno stimolo per Giuntoli di rinnovare Allegri o cambiare la guida tecnica ora per arrivare all'estate del 2025 con più tranquillità e robe del genere? Eh, potrebbe essere. Anche perché, ragazzi, il calcio di oggi, dato che Sarri ha sempre un po' criticato questa roba e secondo me, da quel punto di vista lì, ha sempre avuto tanta ragione e delle molte partite. Il calcio di oggi, con il mondiale per club nel 2025, cerchiamo di andare in un'ordine cronologico. estate 24, europei, poi finiamo a giugno, europei, poi si ricomincia la preparazione, si gioca, finisce, mondiale per club 25, estate 25, dopo aver fatto tutta la stagione, bla bla bla. Poi si ricomincia, preparazione, campionato, e poi finisce e c'è il mondiale, vero e proprio, estate 26, bla 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 bla, poi ci sono le varie coppe, la conference lì, la, no, come si chiamava, la National League, e poi magari ci sarà un altro mondiale per club. Tutte le stati, bene o male, a calcio si gioca, i calciatori non sono mai di riposo. Aggiungiamo il fatto che partirà la nuova versione della Champions League con più partite garantite per tutte, e quindi altre partite in più, e l'altro giorno in Serie A si è votato per andare da 20 a 18, risposta no, si rimane a 18, quindi comunque partite in più. Ora, credo che i calciatori dovranno essere dei veri e propri cyborg, e che le squadre, le rose, dovranno essere decisamente più ampie, e aggiungo anche l'età media dovrà essere decisamente minore, e oltre che gli allenatori sarà necessario dare ancora più spazio a quelli che sono invece gli staff degli allenatori, e quindi i preparatori atletici, perché qui bisogna iniziare a preparare delle stagioni che durano su 12 mesi, 11. Ti fermi un paio di settimane a Natale, ti fermi un paio di settimane in estate, e poi si ricomincia. 11 mesi su 12, e non una volta come magari è successo col Covid, si è andato lungo, e quindi il campionato è iniziato, la preparazione subito dopo, no, ormai sta diventando un dato di fatto. Quindi attenzione, perché anche da questo punto di vista qui, il calcio è cambiato, ed è cambiato tanto, i ritmi sono più alti, l'età media è destinata ad abbassarsi, i calciatori non potranno riposarsi. Mi piacerebbe sapere quando prendere le ferie a tal proposito, una settimana di mare me la farei volentieri, anch'io. Rimaniamo invece in ottica avversari della Juventus, e parliamo di Maurizio Sarri. Ieri abbiamo fatto la live qui su YouTube, abbiamo parlato di quelle che erano le dimissioni di Sarri, abbiamo fatto anche una sorta di Totonomi, alla fine l'Alazio, il Totonomi non l'ha fatto, perché non sarà Rocchi, non sarà Brocchi, non sarà Close, sarà Martuscello. Perché infatti Sarri si è dimesso, lo staff di Sarri no, e questa cosa è molto curiosa, è quasi singolare, se posso permettermi. E quindi Martuscello sarà l'allenatore dell'Alazio, oppure Martuscello allenerà la prossima partita, e poi magari durante la pausa l'Otito farà un paio di conti e cercherà di capire la situazione, ma ufficialmente, anche per il via del tweet dell'Alazio, oggi Martuscello è l'allenatore dell'Alazio. Ricordo Martuscello in panchina alla Juventus, quando Sarri ebbe la polmonite, forse caso zero del Covid, Sarri non lo so, dato che tornavano dalla Cina o dall'Asia, mi sembra proprio dalla Cina, e Martuscello ebbe tipo delle partite con dei punteggi molto alti, mi c'ho sempre in testa Juventus-Napoli 4-3, che è stata una delle partite più belle della Juve che ho visto dal vivo, perché l'emozione ovviamente è stata tanta, dato che ci sono stati tanti ribaltamenti di fronte, tanti gol, sette gol quando esce dallo stadio, a chi ha visto sette gol, eppure vinto all'ultimo secondo, non puoi che essere super felice, quindi attenzione, dato che l'Alazio sarà un avversario che la Juve andrà a affrontare ben tre volte, nel prossimo mese, anzi nei prossimi venti giorni, se Martuscello sarà confermato allenatore dell'Alazio, dovremo aspettarci un certo tipo di partita, perché comunque sarà molto simile all'Alazio di Sarri, se invece decideranno di cambiare durante la pausa nazionale, dopo aver fatto in emergenza quest'ultima giornata affidata a Martuscello, vedremo un attimino chi sarà l'allenatore dell'Alazio che andrà a fare l'esordio in panchina proprio contro la nostra Juventus. Voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, perché ne abbiamo dette tante, dal punto di vista delle percezioni dei tifosi della Juve, degli altri tifosi, dal punto di vista del futuro della Juve, la programmazione, che dovrà essere un tema per la dirigenza dell'Aventus, giuntoli in primi, se ancora una volta vi dico, figuriamoci se dentro l'Aventus questi discorsi non li fanno, questi ragionamenti non li fanno, stanno tutto il giorno a girarsi i pollici e poi dicono, beh, parliamo poi quando raggiungi alla Champions. Ma figuratevi, ma quando mai? Ma secondo voi, ma quando mai? E quindi ci sono tante cose di cui discutere e anche un po' dei ragionamenti su quello che è l'andamento del calcio moderno, del calcio attuale, dal punto di vista delle tante partite disputate, ma anche dal punto di vista economico, che è sempre un tema d'attualità. Ciao.